L'America è un paese che vive un periodo di grave declino in cui l'opinione pubblica ha cambiato il modo di valutare i fatti. Negli anni di Trump questo è diventato un problema drammatico. Biden dovrà essere l'occasione per ritornare a una vita politica più serena, più tranquilla e a un ritorno alla professionalità della politica, al saper fare, a un ritorno ai fatti, ai dati. Questo è stato il successo dei primi mesi della sua Presidenza. La sua scommessa era quella appunto di riuscire a fare delle riforme che non sono mai state fatte negli ultimi decenni della contrapposizione radicale fra destra e sinistra e ancora meno nel periodo della Presidenza Trump. Purtroppo negli ultimi mesi, dall'estate in poi, questo disegno si è molto appannato per quello che sappiamo, cioè le contrapposizioni anche all'interno, non solo nei confronti del Partito Repubblicano che è sempre più radicalizzato e di un'opinione pubblica conservatrice che è sempre più radicalizzata, ma anche di una sinistra divisa che non è riuscita a valare le riforme che la maggioranza parlamentare e democratica avrebbe potuto valare. Qui ci sono due fattori che hanno contato molto, anzi forse tre, perché il periodo di Trump ha creato un'esasperazione e un desiderio di ritorno alla normalità che ha fatto accettare anche un personaggio comune, non carismatico, ma che tutti hanno percepito come un qualcosa di familiare. Non è un caso che a differenza di Hillary Clinton e di Obama non ci sono repubblicani che demonizzano Biden, lo considerano un perdente, uno sconfitto, sono i suoi avversari, ma non è mai stato demonizzato, non è mai stata invocata la galera come è successo per Hillary Clinton. Gli altri due fattori sono l'esperienza parlamentare, cioè si sperava che la sua lunga esperienza di senatore gli consentisse di ricucire più facilmente le spaccature tra destra e sinistra, il che purtroppo non è avvenuto, o almeno non è avvenuto fino adesso. Il terzo fattore è il fattore fortuna, perché sicuramente negli ultimi mesi non è stato fortunato, ma in tutta la sua carriera politica, al di là delle sue disgrazie familiari, personali che hanno segnato la sua vita, ma in politica è sempre stato fortunato, ha avuto delle occasioni che ha perso per diventare presidente o candidato alla presidenza, è stato recuperato vicepresidente da Obama nel momento in cui la sua carriera politica era finita e anche quando è stato candidato alla presidenza nel 2020 era praticamente fuori dalle primarie ed è stato recuperato un'altra volta dai leader moderati democratici quando hanno capito che Sanders, il radicale, stava andando verso la nomination e quindi sono riusciti a convincere gli altri candidati a uscire dalla corsa e allearsi con Biden e a risollevare le sorti politiche di Biden. Trump ha cambiato la narrativa della politica americana, si è passati da un'analisi dei fatti a un'idea diversa della politica, cioè che la fiction in qualche modo, lo storytelling prevalgono sui fatti, quindi questo adesso sta diventando per Biden un grosso problema perché ha a che fare con un'opinione pubblica che in larga misura ha in mente una realtà virtuale e non quella reale, quindi crede ancora a un paese che è leader mondiale, la più grande potenza del mondo, mentre lui gestisce una realtà molto più diversa e problematica e questo quindi genera insoddisfazione. All'origine però, all'inizio, il fatto che Trump abbia in qualche modo sostenuto la rivolta e l'assalto al Congresso ha creato un atteggiamento di, ha reso i stessi conservatori talmente attoniti da lasciare per molti mesi, per alcuni mesi a Biden la possibilità di fare le sue politiche con una certa libertà in Congresso e far passare alcuni provvedimenti in primavera che altrimenti forse non sarebbero passati, un po' come successe a Lyndon Johnson che all'indomani dell'assassino di Kennedy diventò Presidente e riuscì a fare alcune riforme che altrimenti forse non sarebbero passate, a cominciare dalla guerra dei diritti civili. Bernie Sanders ha avuto l'intelligenza politica di non odiare Biden per il fatto che gli aveva sottratto una nomination democratica che era quasi scontata a un certo punto, ha capito politicamente che poteva essere una carta da giocare e lo stesso Biden ha capito che la sinistra del partito era diventata la parte più dinamica, più attiva del movimento democratico e che c'era bisogno di reinventare in qualche modo l'identità di sinistra dei democratici e quindi ha appoggiato un programma di riforme molto ampio e su questo si è creato una connessione molto forte con Sanders per tutti i primi mesi della Presidenza fino all'estate. Quando poi i programmi di Biden a un certo punto si sono bloccati perché in congresso sono cominciati gli scontri non solo con l'opposizione repubblicana ma anche con alcuni parlamentari democratici moderati che non hanno fatto passare alcuni provvedimenti di riforma sociale importanti, il clima è cambiato e la sinistra radicale ha cominciato a prendere il sopravvento anche su Sanders e le degenerazioni della Cancer Culture e della World Culture che stanno un po' alterando i caratteri della sinistra hanno cominciato ad emergere in modo più forte. Sul piano internazionale, soprattutto per quello che riguarda noi europei, c'è da dire che alla fine c'è sicuramente in superficie un riavvicinamento, un ritorno al rapporto cordiale con gli alleati che si era in qualche modo rovinato durante la presidenza di Trump, però la sostanza in realtà è cambiata assai poco, stiamo scoprendo che l'idea di America First che aveva Trump, in qualche modo c'era anche Biden, si è pure più attenuata e gestire in modo più diplomatico e soprattutto nelle grandi scelte internazionali la contrapposizione con la Cina è altrettanto dura con Biden e forse addirittura ancora di più, il confronto in Medio Oriente ha scelto una strada abbastanza simile a quella che aveva scelto Trump e la disastrosa ritirata dall'Afghanistan non possiamo non ricordare che è stata resa possibile e in qualche modo probabilmente necessaria dal fatto che era stato Trump a avviare i negoziati con i talebani e in qualche modo a dare credito e fiducia ai talebani.